Definito l'accordo tra regione siciliana e privati convenzionati per distribuire le risorse e potenziare l'offerta delle prestazioni ambulatoriali per ridurre le liste d'attesa in ambito sanitario. L'intesa è stata sottoscritta nel corso di un incontro presieduto dal dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica con i dirigenti dell'Assessorato della Salute e le organizzazioni sindacali rappresentative del settore. L'accordo prevede una somma complessiva di 310 milioni di euro da distribuire alle varie branche dai laboratori di analisi alla fisiochinesiterapia, dalla cardiologia alla radiodiagnostica e le altre branche e per provincia con un aumento di ben 12 milioni di euro rispetto allo scorso anno. In aggiunta sono stati definiti i fabbisogni specifici di radioterapia 35 milioni e nefrologia 102 milioni. Alle singole strutture è destinato un budget per il 2024 pari al 90% della produzione media 2022-2023. Il 10% residuo sarà assegnato dalle ASP in misura proporzionale al fabbisogno provinciale sulla base dei criteri che verranno definiti dall'assessorato alla salute. In particolare il Governo regionale ha individuato dopo un dialogo con i sindacati nella misura di 8 milioni le risorse finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa. Durante l'incontro è stato anche stabilito un rigoroso cronoprogramma per la distribuzione delle risorse. Il decreto di ripartizione alla specialistica convenzionata ambulatoriale verrà adottato dall'assessorato entro il prossimo 20 maggio, mentre le contrattualizzazioni delle ASP con i singoli operatori economici dovranno avvenire entro il 19 giugno.